Iniziamo con un argomento bellissimo stasera con Alessandro che si è offerto ed è il nostro socio e si è offerto di parlarci del cielo. Lo rivedremo poi Alessandro più avanti quando ci saranno i fiori dei prati, ci parlerà anche dei fiori, vero Alessandro? Questa sera ci parlerà del cielo, ci piaceva questa sua proposta proprio perché noi, io poi vivo tra l'altro nelle montagne e quindi il cielo specialmente d'inverno è stupendo, vediamo un cielo meraviglioso e capirci magari un po' di più, forse anch'io da totale ignorante, sicuramente magari non è che usciamo tanto, un po' freddino, almeno qui, però penso che sia sempre molto interessante, molto affascinante, magari poi Alessandro st'estate lo faremo anche in presenza e andremo a vedere il cielo su Avalinis, Meduno. Sì, sì, o Avalinis o a Vivaro come lo scorso anno, o cambiamo località, o anche quello e quello, vediamo. Vedrai su Acibulais dove comunque non ci sono, non ci sono riverberi di luci strane perché noi siamo proprio... Bene. E volevo ringraziare in particolare Noemi che è dall'Argentina, Noemi dal Brasile, non mi ricordo, e magari poi se gli date la parola è dall'Argentina, ecco, ed Figgiano l'anno scorso ha partecipato ai nostri incontri e quindi grazie Noemi di esserci qui quest'anno e poi magari se c'è qualcun altro anche dall'estero avremo piacere comunque di conoscerlo perché questo vuol dire può riportare ai nostri migranti che sono in altre nazioni, riportare quello che è il territorio, farli rivivere un po' del nostro territorio. Non mi allungo più di più, lascio la parola a Margherita per gli aspetti tecnici e poi ad Alessandro che ci racconterà di questo cielo meraviglioso del nostro territorio. Grazie a tutti i presenti. Grazie Margherita, grazie Rita per l'introduzione, buonasera a tutti, sono Alessandro Boz, presidente del Circolo Culturale di Meduno e quindi socio dell'Ecomuseo, ho già fatto anche attività come esperto per gli eventi di Passi Parole, sicuramente nel 2022 ne faremo altri, soprattutto anche per il cielo notturno di questa estate, a Vivaro abbiamo avuto un bellissimo cielo e anche un ottimo riscontro di partecipanti. Adesso condivido lo schermo così iniziamo a vedere la presentazione che ho preparato per questa sera. Ok perfetto, questa sera più nella nostra zona parlerei proprio in generale dell'importanza proprio del cielo notturno, quindi faremo un viaggio storico dall'antichità al giorno d'oggi per descrivere l'importanza che ha il cielo notturno, ma vedremo anche il cielo diurno per certi aspetti e per tutte le popolazioni più grandi e famose che studiamo a scuola e non solo. E tra parentesi, faremo anche una parentesi molto importante, sull'umanità e il rapporto al cielo, quindi viceversa, come il cielo ha un rapporto sull'uomo e l'uomo ce l'ha sul cielo e ultimamente, nell'ultimo secolo, non stiamo proprio trattando molto bene il cielo notturno che ci ha guidato per millenni. Ecco, proprio partiamo dalle basi dell'astronomia. Che cosa è l'astronomia? È la scienza che si occupa dell'osservazione e della spiegazione degli eventi celesti. E' una delle scienze più antiche che ha studiato l'uomo. Poi vedremo qualche data e veramente si parla proprio degli albori dei tempi. Non farò una spiegazione di astronomia con la descrizione dei vari corpi celesti, quindi delle stelle, dei pianeti, nebulose, galassie, anche comette, ad esempio la Luna. Per questo magari un'altra volta o in presenza quando si potrà fare delle uscite proprio sul campo, altrimenti la serata durerebbe ore. Allora, parliamo proprio dalla base. La parola astronomia deriva dal latino, astronomia, e a sua volta deriva dal greco, dalla composizione delle due parole, astrom, quindi stella, e nomos, risposto il puntatore. Quindi legge, significa proprio dare delle leggi, dare delle norme alle stelle, intese come tutti gli astri. Lo scopo dell'astronomia è cambiato nel corso della storia e lo vedremo nelle varie slide. Gli studi astronomici antichi erano orientati verso lo studio delle posizioni degli astri, che proprio viene chiamata astrometria, quindi misura degli astri. la periodicità degli eventi, la cosmologia e quindi l'astronomia è sempre stata legata agli aspetti religiosi, quindi scienza e religione assieme. Invece dal 1900, quindi dal ventesimo secolo, la ricerca astronomica moderna è praticamente un sinonimo di astrofisica e vedremo quali ripercussioni ha avuto questo anche sulle vite, anche sulla conferenza di questa sera, che senza l'astronomia non potremmo farla. Partiamo proprio dalle origini, dalla storia dell'astronomia. L'uomo sin dall'inizio dei tempi ha osservato la volta celeste, alla ricerca di correlazioni tra le vicende umane e quelle dei fenomeni cosmici. Da queste esigenze nacquero, ad esempio, le costellazioni. Nello studio del cielo notturno e diurno ci sono stati tantissimi aspetti e quelli fondamentali, principali, sono quelli di tipo pratico, che l'uomo ha utilizzato il cielo proprio per fini pratici, per prima cosa, come indicatore naturale dello scorre del tempo. Nascono i calendari. L'uomo ha capito che la stessa stella sorgeva ogni anno, alla stesso giorno e alla stessa ora. Quindi, con molta regolarità, nello scorrere dei secoli e dei millenni, poi i calendari sono affinati ed ogni popolazione aveva il suo calendario, diciamo, tipico. Ne vedremo qualche esempio. Le stelle, come da sempre, sono state un aiuto per, ad esempio, i navigatori o anche per gli esploratori terrestri, quindi per l'orientamento. Ad esempio, una su tutte la stella polare, ma anche la posizione del sole durante il giorno. Ha portato a un progresso tecnologico. Ad esempio, gli orologi, la strumentazione scientifica, ma non solo astronomica, ad esempio i telescopi o altri strumenti, ma anche gli stessi computer che stiamo usando, i telefoni che stiamo usando tutti i giorni, gli calendari stessi. Soprattutto anche, la cosa fondamentale dell'astronomia è legata all'agricoltura, perché avendo un ciclo molto regolare, l'astronomia ha segnalato i migliori momenti per intraprendere le attività agricole. E cosa significava per una popolazione antica? Significava la sopravvivenza. provate a immaginare se una popolazione che non aveva a disposizione supermarket, catene del freddo per conservare cibi, come negli ultimi anni, sbagliasse totalmente al periodo della semina, ad esempio del grano. Significava far mettere in crisi e far patire di fame un'intera popolazione. Quindi l'astronomo di corte era una persona importantissima e vedremo che corrispondeva anche al gran sacerdote, colui che aveva studiato e osservava il cielo notturno anche per identificare le stelle e i pianeti con delle divinità, li chiamiamo ancora oggi pianeti con nomi di divinità e dare un significato religioso, una manifestazione divina ai fenomeni celesti. Ne faremo qualche esempio questa sera. Altro importantissimo fenomeno è di tipo culturale, con i racconti mitologici e sulla creazione dell'uomo o del mondo, di tutto il creato, legati ad esempio alle costellazioni. Ogni costellazione ha un suo mito o rappresenta una parte di un mito, nel nostro caso i miti greci, che siamo una civiltà proprio del bacino del Mediterraneo. Successivamente l'uomo ha cercato di cercare di spiegare scientificamente i fenomeni celesti, con sempre più precisione, e soprattutto le stelle sono sempre state legate alle previsioni del futuro. Quindi ci leghiamo astronomia e astrologia. Quindi il sacerdote aveva il compito di predire il futuro con l'astrologia, studiare gli astri con l'astronomia, e tutto questo nei vari secoli si è riscontrato con uno scontro già dall'antichità tra la religione e la scienza, ne parleremo dopo nei secoli più vicini a noi. Qui sotto ho messo un'immagine che è datata circa 40.000 anni fa di un osso di mammut con incisi sopra, con un carboncino nero, delle posizioni di stelle che è un'immagine di un toro. Questa posizione è una piccola mappa stellare che rappresenta una parte di cielo che, se adesso uscissimo fuori a osservarlo, lo vedremo molto bene. È la costellazione di Orione, che è vicina in questo caso nel disegno e nella realtà la conservazione del toro e all'ammasso delle pleiadi, che è molto facile da vedere ed è uno degli oggetti principali del cielo autunnale e invernale. Iniziamo proprio dalle basi, quindi dalle prime civiltà che incontriamo anche sui libri di scuola, quindi dei babilonesi, quindi Mesopotamia, circa 2700 a.C. fino a qualche millennio circa dopo. I babilonesi furono i primi a riconoscere la periodicità dei fenomeni astronomici e i primi ad applicare la matematica alle loro predizioni. I babilonesi e i sumeri avevano un'arma nuova, la scrittura. E iniziarono, come si vede in questa stele, che praticamente sono calcoli astronomici. Questa stele, scritta nel loro alfabeto cuneiforme, è un antico libro o manuale di astronomia. E sempre, dobbiamo ricordarci sempre, senza utilizzare computer, calcolatori o programmi scientifici e strumenti scientifici. Il telescopio arriverà qualche millennio dopo, quindi solo usando occhi, qualche strumento manuale e il cervello, calcolarono con estrema precisione i movimenti e i periodi di rivoluzione della Luna, dei cinque pianeti visibili ad occhio nudo, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, con una buona precisione. Capirono che le eclissi lunari avevano un ciclo di 18 anni. Divisero l'anno in 360 giorni, un giorno diviso in 24 ore e l'anno in mesi da 29 o 30 giorni in base alla Luna, quindi un calendario lunare. Furono i primi a dividere lo Zodiaco in 12 costellazioni. Lo Zodiaco è una parte di cielo che viene attraversata durante l'anno dal Sole. Zodiaco, vedremo proprio un nome greco, zoo, deriva dalla parola animale, perché le 12 costellazioni dello Zodiaco rappresentano degli animali o comunque degli esseri viventi o mitologici, con una eccezione che vedremo tra qualche slide. La successiva grande civiltà sono quella degli Egizi, dal 3000 a.C. in poi 3000-2500. Iniziarono a usare l'astronomia per le costruzioni. L'ingresso delle piramidi, ad esempio, è rivolto a nord e tutti i cunicoli interni presentano inclinazioni e orientamenti tali da permettere le visioni di stelle circumpolari. Le stelle circumpolari sono delle stelle molto particolari che non tramontano mai in tutte le serie dell'anno. Ci sono costellazioni che si vedono solo d'estate, costellazioni che si vedono solo d'inverno, mentre le stelle circumpolari si vedono tutto l'anno. Ad esempio, le principali sono l'orsa minore, l'orsa maggiore e quella di Cassiopea, ad esempio nelle nostre latitudini. Le disposizioni delle tre celebri piramidi della Piana di Giza sono costruite in base in cui le singole piramidi non vanno ad ostacolarsi nella visione del polo nord celeste e dei quattro punti cardinali. Quindi anche qui non sono allineate alla cintura di Orione come qualcuno pensa, ma sono allineate al polo nord celeste e ai punti cardinali. I vari tempi, ad esempio Edfu è allineato a nord e il tempio per esempio principale del dio sole, che era il dio principale, sul solstizio d'inverno e di un'altra stella di Sirio, che ne parleremo fra un attimo. Queste due stelle, quindi il sole, l'astro principale del nostro cielo e la stella più luminosa, Sirio, avevano un'importanza estrema per gli egizi, tanto da dedicare dei templi perfettamente allineati a questi due astri. Poi migliorarono il calendario babilonese. I calendari babilonese avevano 360 giorni, quello egizio rimase simile e gli egizi dividero il cielo in dei decani, cioè chiamarono 36 stelle di riferimento che sorvegliano, presidiano questi 36 decadi dell'anno e quindi l'anno era diviso in decani. La cosa fondamentale dell'astronomia egizia è legata alla sopravvivenza della loro popolazione, che come sappiamo tutti dai libri di storia, era legata all'esondazione del Nilo, che ricopriva di limo, la delta del fiume e le varie zone limitrofe all'acqua e quindi rendeva fertile questa zona desertica. Il primo giorno dell'anno per gli egizi corrispondeva al giorno della levata Eliaca di Sirio. Cosa significa? Che all'alba l'ultima stella che sorgeva prima del sorgere del sole, quindi in levata Elia da Elios sole, era Sirio la stella più luminosa. Questa circostanza era letta come l'unione tra la dea della fertilità Iside, rappresentata da Sirio, con Ra il sole, portatore di vita. E l'astronomo di corte, nonché sacerdote, doveva controllare molto bene questa data. Perché esattamente tra sette e dieci giorni dopo questo giorno della levata Eliaca il Nilo esondava. Questo succedeva perché all'epoca degli egizi l'elevata Eliaca di Sirio veniva il 18 luglio. Il Nilo esondava perché poche settimane, meno di un mese prima, c'era il cambio di stagione, si iniziava il periodo delle piogge, però in Centafrica. Il Nilo, lungo circa 6.000 chilometri, ci piegava quasi un mese a portare la piena verso il mare e quindi, calcolando i tempi, 18 luglio, fine luglio, il Nilo esondava e l'anno iniziava con festività e con la semina dei vari raccolti. E l'onda di piena del Nilo era rappresentata dalle lacrime della dea Iside, Sirio, che era sorta assieme al Sole per l'omicidio del marito Osiride, che corrispondeva alla nostra costellazione di Orione, che adesso non possiamo osservarle fuori, quindi metto una fotografia che ho fatto a queste due costellazioni e cerco con il puntatore di indicarvi gli astri principali. La costellazione di Orione è una delle costellazioni più famose, più conosciute e più riconoscibili del cielo, anche nelle nostre latitudini, che va dall'autunno fino all'inizio primavera. Adesso siamo nelle migliori condizioni di visibilità, adesso sono le 20 e 58, quindi dovrebbe essere verso sud-sud-est, alto nel cielo, ed è riconoscibile dalle sue tre stelle che rappresentano la cintura, che si trovano qui allineate. E da queste tre stelle riusciamo a ricostruire tutta la figura di Orione, che era un semidio della mitologia greca. Dalla cintura abbiamo appesa la spada, qui sotto, un piede, un altro piede, una spalla, un'altra spalla, se dall'immagine forse si riesce a capire, ha un colore diverso, è una stella di colore arancione, la testa, qui c'è il braccio che parte in questa direzione, e di qua c'è lo scudo che Orione sta tenendo per difendersi dal toro che è tagliato fuori dalla costellazione, dalla foto, ma si vedeva molto bene nella una delle prime slide dove c'era la zanna di Mammut. Dalle tre stelle della cintura puntiamo verso il basso e troviamo questa stella. Questa stella è proprio Sirio, la stella più luminosa che è possibile vedere nei nostri cieli notturni. Prima stella il sole di giorno, prima stella di notte Sirio. Quindi aveva la sua importanza per gli Egizi. Tanto che provate a immaginare se l'astronomo di Corte riusciva a sbagliare la data di esondazione del Nilo, il regno praticamente era senza cibo. Cambiamo civiltà, una civiltà che non si studia a scuola, ma la civiltà cinese, che è molto legata all'astronomia. A differenza delle civiltà che noi conosciamo, loro non erano interessati a pianeti e stelle, loro cercavano le cose variabili, le comete, gli eclissi, e dopo vedremo un altro fenomeno molto particolare. Come credenze, e qui riusciamo a capire un po' di tradizione cinese, gli antichi cinesi credevano che un drago cercasse di divorare il sole quando c'erano gli eclissi, mentre era un cane o un cinghiale divorare la luna negli eclissi lunari. Per scacciarli, cosa facevano i cinesi? Facevano rumore suonando i tamburi, percuotendo pentole o scoccando frecce verso il cielo. E l'eclissi durava dai pochi minuti a qualche ora, quindi la popolazione riusciva a scacciare questi draghi o queste cane, quindi il sole, quindi la luce e la vita riusciva, o la luna, riusciva a vincere di nuovo. Il calendario tradizionale cinese è diverso dal nostro, è un calendario lunisolare, quindi si basa sul calcolo del movimento della luna e del sole, e l'anno è composto come il nostro a 12 mesi, ma iniziano con la fase di luna nuova. Il capodanno cinese quest'anno è il primo febbraio, con la prima luna nuova secondo il loro calendario, e ogni anno hanno un animale su cui l'oroscopo cinese si basa, hanno 12 anni, se non ricordo male, di rotazione. Tutti gli aspetti della società cinese erano scanditi dal ritmo dell'agricoltura e delle stagioni, anche quindi mesi, erano legati ai nomi agricoli. L'astronomo di corte era la terza persona più importante del regno, primo era l'imperatore o il sovrano, secondo il sacerdote, terzo era l'astronomo. Se l'astronomo sbagliava i calcoli, subiva la pena di morte, quindi fare l'astronomo nel regno cinese era un impegno non da poco. I cinesi avevano un'altra passione, osservavano gli eventi non quelli fissi ma quelli variabili, abbiamo visto le comete, gli eclissi, ma anche furono gli unici a descrivere la supernova del 1054 d.C., evento che rimase quasi... cioè gli europei non ci badarono poi tanto. Cos'è una supernova? Una supernova è l'atto finale della vita delle stelle molto molto grandi. Ad esempio abbiamo visto la spalla di Orione, che è di un colore rosso, finirà la sua vita con una supernova, che è una grandissima esplosione. La stella esplode alla fine della sua vita e rilascia nello spazio una grandissima nube di polvere e di gas, chiamata nebulosa, da cui si origineranno nuove stelle, nuovi pianeti in epoche successive. Quindi dalla morte di una stella nasce nuova vita. Anche noi siamo tutti originati dalla morte di qualche stella molto molto più antica del Sole. Cosa è successo nel 1054 d.C.? Il 3 luglio apparve una nuova stella, visibile addirittura durante il giorno, per 23 giorni consecutivi, quindi fino a fine luglio, per poi scomparire, ma rimanere visibile per quasi due anni, 653 giorni di notte, e poi scomparve. Cos'era questa stella? L'anno loro l'hanno registrata, nuova, perché è una cosa nuova, una novità, proprio dal nome latino. E cos'è? Puntando in telescopi potenti negli ultimi secoli di osservazione stellare, si è scoperto che non era nient'altro che la nebulosa del granchio. Cioè, in questa immagine, fatta dal telescopio spaziale Hubble, vediamo ciò che rimane di questa grandissima esplosione avvenuta nel 1054 d.C. Al centro, qui, abbiamo la stella che ormai è morta ed esplosa durante l'esplosione, e tutte le polveri e i gas che si trovano a circondarla. Queste polveri si espandono circa 1500 km al secondo. Quindi, facendo fotografie in vari anni, vediamo che questa nebulosa cambia forma e si espande. Noi l'abbiamo vista nel 1054 d.C., ma in realtà, essendo lontana da noi circa 6500 anni luce, è scoppiata all'incirca nel 5000 a.C., quindi parecchi, parecchi, la luce, prima di arrivare a noi, ha percorso parecchio tempo, parecchia distanza nello spazio, parecchio spazio nello spazio, era un po' brutto da dire. Quindi i cinesi avevano tutte altre curiosità nel cielo, poche stelle, ma tanti fatti variabili. Poi si cambia proprio totalmente continente, è una delle civiltà più importanti, ma viene studiata pochissimo a scuola, perché la si studia sempre dopo i viaggi di Cristoforo Colombo. Gli Astechi, quindi le città, c'è le civiltà, diciamo, dell'America centrale, nel Messico in questo caso. Non si sa quando è iniziata questa civiltà, ma è finita nel 1521, con praticamente lo sterminio da parte dei conquistadores. Loro avevano un culto legato a Venere, che rappresentava il serpente piumato, Quesal Coal, che abbiamo qui un'immagine rappresentata da un loro disegno. Avevano calcolato il ciclo del pianeta Venere con una precisione che aveva un errore di un giorno ogni 6.000 anni, ripetiamo, senza usare computer, solo usando il cervello e gli occhi. Quindi calcoli veramente precisissimi. Prevedevano gli eclissi, gli equinozi e allineavano i loro templi in base agli eventi astronomici. L'esempio è questo qui sotto il tempio famosissimo di Cicca Inizia, ed è allineato con l'alba negli equinozi, quando iniziavano i famosi giochi in cui si sacrificavano le persone per le divinità. Qui sotto invece abbiamo un calendario dove c'è il puntatore del maro, sul loro calendario. Andiamo a casa finalmente. Iniziamo a parlare dell'astronomia greca, quindi l'astronomia che è la base della nostra. VII secolo a.C., I secolo d.C., quando diciamo si fusero e vennero conquistati dai romani. Qualche nome veloce perché altrimenti possiamo parlare due giorni solo della loro astronomia. Talete da Mileto divise l'anno in 365 giorni e in quattro stagioni, calcolò le date precise di equinozi e sostizi. Iceta di Siracusa, Siracusa era una colonia greca, adesso è in Sicilia, ma all'epoca era Grecia, la Terra gira su se stessa. Una nuova scoperta. Platone e Filotao, il sistema solare eliocentrico, non geocentrico. Platone diceva che la Terra girava attorno al Sole, non che il Sole girava attorno alla Terra. E qui ci fu una prima grande scoperta, subito chiusa da la persona che bloccò gli studi astronomici per duemila anni, Aristotele. Ciò che diceva Aristotele era legge, come qui la persona qui, la statua al centro, Ipse Dixit, lo ha detto Aristotele. Era la concezione classica del nostro universo, la Terra al centro, con le varie sfere attorno, fino alle stelle fisse. Era la concezione dantesca. Vedremo dopo quando parlerò di Dante, perché ancora nel 1300 si parlava di questa concezione di Aristotele. Eratostene da Cirene calcolò la lunghezza del meridiano terrestre, sbagliando, questa parola tra virgolette, di 600 chilometri rispetto alle misurazioni fatte con i GPS e con i satelliti. Lui calcolò, utilizzando l'ombra di un bastone misurata allo stesso giorno, ma in posizioni diverse dell'Egitto, calcolò che il meridiano, quindi la distanza tra Polo Nord e Polo Sud, era di 39.400 chilometri. Invece, misurandole con strumenti moderni, 40.000, 600 chilometri su 40.000, utilizzando dei bastoncini al posto dei satelliti molto costosi, è un risultato incredibile, soprattutto nel III secolo a.C. Tolomeo, I secolo d.C., lo vediamo qui nella raffigurazione medievale, sistema geocentrico. Quindi Terra al centro classificò mille stelle, più di mille stelle, e descrisse le 48 costellazioni classiche e le 12 costellazioni dello Zodiaco. Le costellazioni moderne sono 88, ma le quelle classiche sono ancora quelle che si descritte da Tolomeo circa 2200 anni fa. Le 12 costellazioni, ricordiamoci questo numero dello Zodiaco, perché questo numero cambierà con l'arrivo dei Romani. I Romani erano un popolo molto pratico, quindi l'astronomia l'avevano già fatta i Greci, perché dobbiamo farla anche noi. L'hanno usata solo per scopi pratici, come ad esempio la navigazione. In realtà i Romani navigavano a vista, perché il loro mare, il Mare Nostrum, era al Mediterraneo e navigavano soprattutto lungo le coste. Oppure all'agricoltura, è l'unica cosa che ci hanno lasciato di astronomico i Romani come nomi di stelle. I nomi di stelle sono Greci, tantissime, dopo tantissime vedremo da dove arrivano i nomi. Due stelle fondamentali, nome Romano, Spica, la spiga di grano, e Vindemiatrix, la Vendemmia, rappresentate nella figura della Dea dell'Agricoltura, Cerere. Spica, che in una mano aveva la spiga di grano, qui la falce, e dall'altra parte il grappolo d'uva. La persona che diede una svolta all'astronomia romana fu Giulio Cesare, l'unico che diede un contributo forte. Stabilì che l'anno doveva avere 365 giorni e un quarto, 365 giorni e 6 ore. Inserì il concetto di anno bisestile. Quelle 6 ore vengono recuperate ogni 4 anni, 6 per 4 a 24 si aggiunge un giorno. Cambiò il nome del mese Quintilius, il quinto mese, in Giulius, dedicato da solo, e del mese successivo, il sextili in Augustus, luglio e agosto, chiaramente dedicate a lui. L'anno però iniziò, come sempre, a marzo. Perché iniziavano a marzo i romani? Mese dedicato al dio Marte, dio della guerra, perché i romani d'inverno non combattevano. Quando cambiava la stagione, i soldati romani abbandonavano il fronte e tornavano a casa a coltivare i campi. Perché pochi erano insolati di professione, molti erano persone comuni. Coltivavano i campi, alla fine della brutta stagione, a marzo, riprendevano le guerre. Quindi la scena iniziale del film Il gladiatore dove combattono sotto la neve è, diciamo, un falso storico. Questo calendario dedicato a Giulio Cesare resistette, dedicato anche, creato da Giulio Cesare, resistette fino al 1582, quando Papa Gregorio XIII intervenne col nuovo calendario, quello che usiamo noi ancora, il calendario gregoriano. Il famoso calendario che ha fatto sparire dieci giorni dal 4 al 15 di ottobre del 1582. Ha fatto sparire dieci giorni dal calendario per riassestarlo. Aggiunse Giulio Cesare, nell'atto di megalomania, una tredicesima costellazione allo Zodiaco, la bilancia, che era il simbolo della giustizia romana, della Lex, ed è l'unica costellazione dello Zodiaco che non rappresenta un animale o un essere vivente mitologico. Attualmente le costellazioni dello Zodiaco astronomico sono 13, non 12 come lo Zodiaco classico o quello astrologico, lo dei segni zodiacali. Sono due cose totalmente diverse. Qui vediamo, ah non si vede proprio intera la scritta, ma dal software Stellarium, che è un simulatore gratuito, che si può scaricare sia per computer, ma ci sono anche le versioni per telefono, che simula il cielo notturno, sia nel passato che di oggi e che nel futuro. Basta cambiare la data e si riesce a calcolare esattamente la posizione di tutti gli astri. Vediamo un'immagine proprio della costellazione della Vergine, proprio con le linee classiche che delimitano la figura, con la figura della Dea sdraiata, con spicca, che in realtà dovrebbe essere una gamba ma qui indicata come un'anca, e Vindemiatrix. Queste due stelle erano molto importanti per i romani perché nel periodo in cui non erano visibili, quindi tra la fine di agosto e metà settembre c'era proprio il raccolto delle messi e la vendemmia, quindi erano due stelle usate come calendario. E qui vediamo proprio la zona dello zodiaco, quindi la Vergine, la bilancia, qui sotto c'è lo scorpione. Cambiamo epoca. Medioevo. Due zone del Medioevo. L'astronomia islamica fece passi da gigante. Usarono i numeri arabi che a loro volta erano presi dall'India, molto più pratici rispetto ai numeri romani. e diedero la nomenclatura che si usa ancora oggi nell'astronomia, quindi lo zenith, il punto più alto del cielo, il nadir, che è quello più basso, l'almanak, almanak è una parola comunque araba, e diedero tantissimi nomi alle stelle. Deneb, Altair, Betelgeuse, Mizar, Rigel, potrebbero andare avanti per migliaia di stelle e tantissimi nomi sono arabi e si usano ancora oggi. Medioevo europeo. Niente. Per due motivi, l'ipsedixit di Aristotele e la chiesa, che bloccava qualsiasi scoperta scientifica. Divenne l'astronomia una materia di studio classico e uno dei più grandi studiosi di astronomia fu Dante Alighieri, che nella Divina Commedia si vede quanta astronomia aveva studiato, tanto che dalle terzine si riesce a capire esattamente il giorno in cui Dante entrò nel suo viaggio all'interno dell'inferno. per trovare un utilizzo pratico dell'astronomia dobbiamo salire nel nord Europa con i vichinghi, queste popolazioni norrene della Scandinavia. l'uso della navigazione lontano dalle coste, utilizzavano di notte le stelle, di giorno il sole, anche quando era nuvoloso, perché utilizzavano una pietra molto particolare chiamata l'aspatto di Islanda, che è non niente che la calcite, quella che compone moltissime nostre montagne, carbonato di calcio, che forma il carcismo, una versione molto cristallina e trasparente, traslucida, ha una particolare caratteristica che divide in due, si chiama birifrazione, della luce, anche se c'è nuvoloso. quindi puntavano questa pietra nel cielo anche in giornate di brutto tempo per riuscivano a capire dove era la posizione del sole e con degli strumenti capivano l'ora e la data in cui si trovavano. e grazie a questi strumenti riuscirono a scoprire la Groenlandia nel 985 d.C. con Eric Rosso e il suo figlio, Leif Erikson, cognomi del nord, son figlio di Eric, quindi con cognome composto, scoprì l'America circa nell'anno 1000, quasi 500 anni prima di Cristoforo Colombo. Arrivò in Canada, dove ci sono ancora dei resti di villaggi vichinghi. Andiamo al grande salto dell'astronomia e del rinascimento. Niccolò Copernico, quindi molti nomi di questi sono italianizzati, anche perché all'epoca si utilizzava italianizzare i nomi e i cognomi degli scienziati, dei filosofi ad esempio. Copernico, polacco. La terra gira attorno al sole e non con orbita circolare. Qui inizia un po' a scricchiolare la teoria di Aristotele, ferma dal IV secolo a.C. Giordano Bruno, italiano. Il visibile non è il limite estremo dell'universo. Essendo italiano e vicino al Papa, per questa affermazione e altre, Giordano Bruno finì a rogo. Giovanni Kepler, o tedesco, a Johan Kepler, le orbite ellittiche e non circolari. Modificò calcolando le varie orbite e formulò le tre leggi della meccanica celeste, quindi della gravitazione universale, dell'astronomia, che si usano ancora oggi, abbattendo le ultime barriere ideologiche. Il colpo di grazia lo diede Galileo Galilei. Sfruttò la recente invenzione del cannocchiale, che veniva usato per uso militare, per la flotta e per le battaglie campali, per usarlo come telescopio. Adattandolo un attimo, riuscì a scoprire, in pochi anni, che la Luna non era liscia, ma aveva delle montagne, e la disegnava. E vendeva i disegni come souvenir, anche per farsi due soldi. Scoprì i quattro satelliti di Giove, da Firenze, e li dedicò a Lorenzo dei Medici, e quindi ancora oggi si chiamano i satelliti le lune medice di Giove. Scoprì che Saturno non era un puntino, ma aveva una forma anomala. La chiamava lui Tricorporea. Con il suo strumento poco potente non riuscì a capire che forma aveva, però capì che era diverso. Puntò la Via Lattea e scoprì che era composta da tantissime stelle. Scoprì le fasi di Venere, e questa scoperta fu la chiave per capire che non è la Terra al centro dell'universo, ma c'era il Sole. La Terra orbitava attorno al Sole. Studiò anche le macchie solari, con un sistema molto ingegnoso, senza guardare direttamente il telescopio con gli occhi, perché altrimenti si sarebbe bruciato la retina. Puntando il telescopio a terra, proiettando l'immagine come un proiettore, si vedevano le macchie solari. Per queste sue scoperte, Galileo venne chiamato prima una volta dal Papa per fargli vedere questo nuovo strumento, con molta festa. La seconda volta, Galileo venne chiamato dal Papa per essere processato. Ritrattò tutto e ebbe salva la vita. L'astronomia moderna cambia totalmente. Dal 1700, da metà 600, con Isaac Newton, che vediamo quell'immagine qui sotto, l'astronomia si lega sempre di più alla matematica. Si iniziano a fare calcoli astronomici, non solo osservazione. I telescopi divennero sempre più sofisticati e si inizia a osservare e esplorare lo spazio. Vengono scoperti i satelliti di Saturno e finalmente anche la presenza degli anelli, Giovanni Domenico Cassini. Un italiano. Quindi Galileo aveva ragione. Saturno era un po' strano, era una solita sfera, ma aveva, in questo caso, degli anelli. Edmund Halley calcolò la periodicità di una cometa che appariva nel cielo ogni 76 anni. L'ultima volta apparve nel 1986, la prossima volta apparirà nel 2061. Questa cometa si chiama la cometa di Halley, proprio in suo onore. E non a caso, qui in alto, abbiamo l'adorazione dei magi di Giotto, cappella degli Scrovegni, Padova. Disegno a fresco del 1301-1302. Sopra la capanna vediamo una cometa, proprio la cometa di Halley. Da questa illustrazione, sui nostri presepi, abbiamo una cometa che, nell'epoca della nascita ipotizzata di Gesù, non ci fu nessuna cometa. Però, grazie a Giotto, tutti i nostri presepi hanno una cometa sopra la capanna, che è la cometa di Halley. Sempre nello stesso periodo, Charles Messier calcola 103 oggetti. Puntando il telescopio, varie posizioni del cielo, cataloga, descrive disegna nebulosi a massi di stelle. Cento anni dopo, con strumenti molto più potenti rispetto all'epoca, ci si accorse che aveva scoperto anche delle galassie. Quindi, corpi celesti fuori dalla nostra galassia, senza pur saperlo. William Herschel, nel 1781, scoprì un nuovo pianeta. Voleva chiamarlo Giorgio, in onore del Giorgio III di Gran Bretagna. Ma si decise di chiamarlo con le divinità greche, per proseguire un po' la tradizione, e venne chiamato Urano. Potremmo immaginarvi il nome dei pianeti, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Giorgio, Saturno, Giorgio. Sarebbe stato un po' fuori dalle tradizioni, quindi decisero di continuare a chiamarlo con i nomi greci. Dal 1800 si iniziano a studiare con altre tecniche, ad esempio l'aspettoscopia, scoperti asteroidi e il ciclo solare. Anche il Sole ha un ciclo di suo particolare. Nel 1846, grandissima svolta dell'astronomia, John Couch Adams scoprì il pianeta Nettuno, ma non usando il telescopio, dai calcoli matematici. Quindi l'astronomia si separa un po' di più dall'osservazione diretta e inizia ad essere veramente moderna. Calcoli matematici. È stata una grandissima scoperta. Arriviamo poi all'ultima parte della storia dell'astronomia. 1900, l'astrofisica. Pochissime parole. Albert Einstein, 1904, la teoria della reattività ristretta, con la famosa formula E uguale mc al quadrato. 1916, teoria della reattività generale, dove si ipotizza la curvatura dello spazio-tempo. Venne ipotizzata, venne verificata nel 2019, quando venne fotografato per la prima volta un buco nero. Einstein aveva ragione. 103 anni dopo venne confermato. Hubble, 1929, l'universo si sta espandendo. Nel 31, George Lemaitre, teoria del Big Bang. Le grandi teorie del Novecento. Ci fu la più grande innovazione tecnologica dell'astronomia, e dopo la vedremo nel dettaglio, con la corsa nello spazio, quindi la rivalità tra Unione Sovietica e Stati Uniti, adesso anche la Cina, dagli anni 50 ad oggi. E poi lo studio dei buchi neri, con Einstein, Swarshield e Hawking, che è uno degli ultimi grandissimi astrofisici del mondo. Brevissima corsa allo spazio, per capire anche che impatti ha avuto l'astronomia moderna, quindi l'astrofisica, nel nostro mondo attuale. Non siamo più legati all'astronomia per le piantagioni, cioè per l'agricoltura o i calendari, visto che sono già stati fatti, ma vediamo cosa ci ha modificato la vita, anche in cose che abbiamo tra le mani e tutti i giorni usiamo e possiamo godere grazie a queste scoperte. La corsa allo spazio fu la grande sfida tecnologica tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica durante la guerra fredda, tra il 57 e il 75. Vediamo chi la vinse, perché qua c'è un po' di atriba. 57, primo satellite artificiale, Russia, lo Sputnik primo, specie di sfera con le sue antenne. 3 novembre 57, meno di un mese dopo, Laika, il primo passeggero di un satellite, Russia. Il vero nome era Vocaico di Avca Ricciolina e fu il primo passeggero di un satellite. Non fu il primo essere vivente lanciato nello spazio, perché nel 46 vennero lanciati dei moscerini con dei razzi, ma diciamo Laika fu il primo grande passo. Nel 58, dopo un 2.0 secco, gli americani fondarono la NASA. Nel 58, pochi mesi dopo, lanciarono il primo satellite per le telecomunicazioni. 2 a 2. 59, immagine della Terra dallo spazio, sempre Stati Uniti. 59, prima sonda ad atterrare sulla Luna. Russia, il Lunokhod. Ottobre 59, Russia. Prima foto del famoso Dark Side of the Moon, il lato nascosto della Luna. La Luna ci mostra sempre la stessa faccia. Una sonda venne mandata dietro la Luna e scattò una fotografia. 12 aprile 61, primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin. Qui la Russia sta iniziando a avere il sopravvento. 25 maggio, John Kennedy, presidente degli Stati Uniti, afferma che entro la fine del decennio, gli Stati Uniti manderanno un uomo sulla Luna. Nasce il programma Apollo. Lui, purtroppo, non vide il successo del programma Apollo, perché conosciamo tutti la tragica fine del presidente Kennedy. Se notate, sul simbolo di Apollo c'è la costellazione di Orione, con le tre stelle della cintura, la spada, i due piedi, le due spalle e la testa. Da quanto è ancora importante questa costellazione. Se la cercate bene, anche sulle banconote degli Euro, nella costellazione di Eurione. 63, in base alla risposta degli Stati Uniti, prima donna in orbita, Valentina Tereskova, Russia, e ancora nel governo russo come uno dei capi assieme a Vladimir Putin. Nel 65 l'America gioca la carta principale, aumenta il budget alla NASA. Passa dai 500 milioni di dollari ai 5,2 miliardi, cioè il 5,5% di tutti i fondi federali. Attualmente sarebbero circa 40 miliardi. E lì si inizia a fare sul serio. 67 venne costruito il Saturn V, la più potente e rumorosa macchina mai costruita dell'uomo. La corsa alla Luna era già lanciata. Questo razzo, figlio, cioè progettato da un scienziato nazista, poi emigrato in America, Werner von Braun, che aveva già progettato missili durante la Seconda Guerra Mondiale, i famosi missili V2, V1 e V2. Questo missile, questo razzo pluristadio americano, era alto 110 metri, circa quanto il campanile di Mortegliano, e fu la macchina più potente in assoluto mai crescita dall'uomo, e soprattutto rumorosa. Pensate, quando facevano i lanci da Cape Canaveral, tutti i sismografi americani sentivano onde sismiche, fino a 4,6 Richter. Questo razzo aveva una rumorosità di circa 220 decibel alla pedana, ed era talmente forte che scioglieva, con le onde sonore, scioglieva il cemento della pedana, e la soglia di sicurezza per il rumore, quindi circa 90 decibel, si aveva a 10 chilometri, e il boato dell'accensione del razzo della partenza era udibile da oltre 100 chilometri, quindi era una macchina veramente impressionante, e soprattutto molto costosa. Fu anche una delle cause della fine di questo decorso allo spazio. Apollo 11, la conquista della Luna, qui riassumo tutte le missioni Apollo, con il lancio del 16 luglio del 69 da Cape Canaveral dell'Apollo 11, con a bordo Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Buzz Aldrin, verso la Luna. Il 20 luglio ci fu la famosa frase The Eagle has landed, cioè il modulo spaziale Eagle è atterrato sulla Luna, allunato. con pochissimo carburante a bordo, meno di 20 secondi di carburante rimanente. Quindi arrivati lì, per terminare rovinosamente la prima missione vera e propria lunare. 21 luglio, poche ore dopo, giusto il tempo di mettere la tuta, Neil Armstrong è il primo uomo a mettere il piede sulla Luna, con la famosa frase, e il secondo, circa mezz'ora dopo, ci fu il compagno Buzz Aldrin. Collins invece orbitava attorno alla Luna, nella navicelle, che li avrebbe ospitati per il ritorno. La missione Apollo 11 fu seguita da altre sei missioni, una fallita, la famosa Apollo 13, che però ha un record. furono i tre uomini ad andare più lontano dalla Terra. Hanno questo record un po' fortunato, in questa missione che è stato un disastro, un po' fortunato, sono riusciti a riportare tutti e tre gli astronauti a casa senza danni. arrivarono in pochi anni, in tre anni, dodici uomini sulla Luna, c'era un lancio ogni sei mesi, all'incirca, anno della chiusura del programma Apollo, per due motivi. Ormai l'obiettivo era raggiunto, il calo degli attenzioni era ormai, era noto, nessuno interessava più andare sulla Luna, ormai l'obiettivo era stato raggiunto, e soprattutto per i costi, calcolati in 25,4 miliardi di dollari dell'epoca. Attualizzati, proprio a ieri che ho fatto i calcoli, 167 miliardi di dollari, che sembrano tantissimi, 167 miliardi di dollari in poco meno di 20 anni, circa 20 anni di, neanche 15 anni, perché la NASA è fondata nel 58, 15 anni, 167 miliardi di dollari, non tantissimi, però ricordiamo un'altra cosa, come metodo di paragone, stessi anni, guerra del Vietnam, 165 miliardi dell'epoca, 1.100 miliardi attuali, quindi c'è un metodo di paragone, chiusa la, senza andare proprio in tanti dettagli, chiusero la missione, il Vietnam con otto volte, quasi nove volte più spesa, comunque fu un fallimento per gli americani, vediamo cosa ci lasciarono, questi 167 miliardi attuali, di budget americano, dei famosi contribuenti, ci lasciarono una tecnologia immane, ogni dollaro investito, si stima, sia superiore ai 7, 10 dollari guadagnati nel tempo, con tantissimi strumenti, i più importanti sono tutta l'elettronica, tutti i microchip che abbiamo, nei computer, nei telefoni, in televisione, qualsiasi cose tecnologiche, derivano dai computer di bordo, del programma Apollo, quindi anche la diretta che stiamo facendo adesso, e state osservando, e si può fare grazie, alle tecnologie fatte, in questi anni di corsi folli, verso lo spazio, l'ATTAC, la tomografia a sale computerizzata, deriva dall'analisi strutturale, dei materiali, per mandare, sulla luna, un minimo errore, un minimo danno tecnologico, sarebbe costato la vita di astronauti, i filtri per l'acqua, sono gli stessi, che usavano, con leggere modifiche, all'interno delle capsule lunari, potabilizzazione dell'acqua, tecnologia, durante le missioni Apollo, il cibo li ho filizzato, c'era già però, durante le missioni spaziali, venne il boom di questo cibo innovativo, che bastava mettere le gocce d'acqua, e avremmo mangiato, il cibo del 2000, la coperta termica per emergenza, era usata come scudo termico, per le zampe, ad esempio dei moduli, come si può vedere, dalla fotografia, qui, in alto, tra la bandiera degli Stati Uniti, è niente meno, che la coperta termica, che possiamo comprare con pochi euro, che può salvarci la vita, durante le escursioni in montagna, o per altre evenienze, le tute degli astronauti, hanno dato la base, alle tute ignifughe, che usano i pompieri, e i piloti di Formula 1, e anche i tendoni, che vengono utilizzati, con le tensostrutture, tutto legato, a queste emissioni, e la copertura degli stadi, molto più grandi, gli strumenti, senza filo, la Black & Decker, e la NASA, crearono, la prima trivella, a batterie, che poi miniaturizzandolo, sono gli strumenti, che usiamo tutti, tutti i giorni, quasi, senza la necessità, di fili, la Black & Decker, è diventata famosissima, grazie alla NASA, il rivestimento, antigraffio, degli occhiali, degli schermi, anche per i telefoni, è fatto, per proteggere, la strumentazione, del visiere, dagli astronauti, dalle piccole particelle, lanciate in orbita, ad esempio, nell'allunaggio, nello spazio, le scarpe sportive moderne, quelle che usiamo, per fare la running, o attività, varie sportive, sono tecnologie, derivate dagli scarponi, dagli stivali, usati sulla luna, i famosi moon boot, che andavano di moda, e ancora oggi, come dopo sci, il velcro, venne brevettato nel 55, ma era la chiusura, per le tute spaziali, e da lì, ebbe un boom, in tutto il mondo, questo velocissimo, si stava a prechiudere, ad esempio, le scarpe, o i vestiti, il teflon, nel 38, inventato, ma subito dimenticato, ebbe il suo boom, durante le missioni Apollo, per le componenti spaziali, tutte, veicoli, e protezione leggero, e molto resistente, e un'altra cosa, un po' più curiosa, il chewing gum senza zucchero, che per noi sono dietetici, ma erano dei salvavita per gli astronauti, perché in assenza di gravità, alimentandosi attraverso un tubo, le gengive si gonfiavano, perché non si masticava, quindi veniva dato in dotazione agli astronauti, che andavano nello spazio, un chewing gum senza zucchero, senza zucchero, per non avere problemi di carie, o di mal di denti, perché un dentista, nello spazio, era difficile da raggiungere. Adesso vediamo la seconda parte. Il cielo ci ha dato tantissimo, negli ultimi 40.000 anni, abbiamo visto dai calendari, le costruzioni degli antichi egizi, la mitologia, tantissime invenzioni, fino al computer che stiamo usando, ma l'uomo, cosa ha dato al cielo? C'è un rapporto, diciamo, di solidarietà tra le due parti, uomo-cielo-cielo-uomo? No. Purtroppo l'uomo ha, diciamo, maltrattato il cielo notturno, che lo ha fatto sopravvivere per fino a 150 anni fa, circa, per la scoperta dell'elettricità. L'uomo, vedremo, ha creato l'unica forma, diciamo, di inquinamento che si vede dallo spazio. Dallo spazio non si vede la muraglia cinese, ma si vede benissimo l'inquinamento luminoso, tutte le lucine che si vedono nelle famose foto viste, fatte dallo spazio durante la notte, o dalle immagini che si riprendono dalle stazioni spaziali. Per l'inquinamento luminoso si intende qualsiasi alterazione della quantità naturale di luce presente di notte. nell'ambiente esterno è dovuta all'emissione di luce per cui l'uomo abbia responsabilità, quindi tutte le luci che lasciamo accese di notte, tra cui quelle principali sono l'impianto illuminazione esterna notturna, la maggior parte sono fuori legge, sovradimensionati o mal progettati. Illuminazione di interni che sfugge all'esterno, ad esempio le vetrine dei negozi. Qui abbiamo quattro esempi proprio classici dell'inquinamento luminoso, gli impianti sportivi che illuminano a giorno un'area oltre allo stadio, al campo di gioco, le zone, diciamo, interessate all'allenamento, ma anche tutto il circondario, illuminando soprattutto il cielo e sono visibili per decine e decine di chilometri. Le vetrine, abbiamo una zona industriale, questo è il porto di Napoli, che è totalmente illuminato e vedremo che per la maggior parte è inutile, e poi soprattutto l'illuminazione dei monumenti. Questo è un esempio che era uscito un paio di mesi fa, questo è il castello di Cison di Valmarino, che nonostante il Veneto abbia una delle più stringenti leggi regionali sull'inquinamento luminoso, è stato sponsorizzato la nuova illuminazione che vedremo è totalmente illegale, addirittura dal governatore della regione, perché si vede addirittura da molti chilometri spezzando il buio del bosco. Quindi, altre scelte, se prendiamo in mano la legge regionale, questo dovrebbe essere totalmente spento o ricostruito con dei vari, con criteri più consone illuminazione di un monumento. Vedremo che effetti ha soprattutto l'inquinamento luminoso, perché noi direi, boh, una lampadina lasciata accesa, ma una lampadina, io, una, un'altra, sono milioni, milioni di lampadine e molto spesso sono troppo potenti e troppo forti. vedremo degli esempi dopo. Sull'ambiente che effetti ha? La flora, la fotosintesi, le piante hanno bisogno di luce, la luce dei fari fa attivare la fotosintesi anche nei periodi in cui non deve avvenire, quindi c'è uno scompenso nella flora, quindi nelle piante, ricordiamoci, sono le piante che ci danno l'ossigeno di cui siamo legati per la sopravvivenza. La fauna, disturbo degli animali notturni, gli animali notturni hanno bisogno di buio e ai migratori. Gli uccelli, ad esempio, migratori seguono le stelle per migrare e vengono confusi dai fari e dalle luci dei grandi insediamenti urbani, animali notturni ad esempio che vengono disturbati, i pipistrelli, le falene, le lucciole che, come si è scritto dopo, rischiano l'estinzione per colpa dell'uomo e soprattutto sugli habitat, che quindi leghiamo flora, fauna, ma anche sulle risorse, perché per illuminare serve energia e la maggior parte delle risorse che usiamo non sono rinnovabili, quindi c'è un triplice danno all'ambiente. Sull'uomo tantissimi studi, oltre a un centenario di studi internazionali degli ultimi decenni, danno proprio nome e cognome ai vari effetti che l'inquinamento luminoso, quindi l'uso delle luci durante la notte, danno all'uomo. Il principale è l'alterazione del ritmo circadiano. Noi siamo animali diurni, di giorno stiamo svegli, di notte si dorme. Così si alterano, si si equilibrano gli ormoni, la salute e vedremo cosa succede se rompiamo questo ritmo. ci sono degli effetti molto importanti. Il calo della produzione di melatonina, quella che prendiamo poi con le tisane, da cui derivano l'aumento dell'insonnia, che la melatonina è l'ormone che si forma durante la notte, quindi aumento di stress, obesità, depressione, incidenza di patologie come il morbo di Alzheimer, il diabete e varie forme tumorali, tra cui i principali tumori alla prostata e il tumori al seno. infatti i turni notturni del 2007 sono inseriti nel catalogo dell'elenco delle azioni cancerogene al qual di benzina, Eternit e quant'altro, quindi alterare il ritmo circadiano non fa bene alla salute. C'è la diminuzione di sicurezza che spesso, soprattutto in Italia, è confusa con la sensazione di sicurezza, quindi aumento di incidenti stradali perché molte luci puntano direttamente sulla strada bagliando i guidatori e creano incidenti, aumento della sensazione di sicurezza, dicevo un attimo fa, più vedo, più corro, più crea incidenti, infatti in autostrada non c'è illuminazione e sono buie e l'aumento della criminalità, dove c'è luce c'è criminalità. In molte città, ad esempio Boston, Londra, a Tokyo c'è un altro esempio molto particolare, per togliere la criminalità dalle stazioni o dalle zone malfamate hanno tolto l'illuminazione notturna, sparita la criminalità. A Tokyo i bagni pubblici di certe stazioni anche in metropolitana hanno all'interno la luce blu. Si riesce a fare ciò che bisogna fare in bagno, però i tossicodipendenti non trovano le vene, quindi non occupano i bagni attirando anche malintenzionati, solo cambiando il colore delle lampadine. L'inquinamento crea ingenti danni economici, spreco di denaro pubblico e privato perché le luci sono fatte per essere puntate verso il basso e invece se puntiamo il cielo è un immenso spreco di denaro dopo lo quantifichiamo. Spreco di energia elettrica e di risorse che servono come prima a creare l'energia e come dicevo spesso non rinnovabili. Un danno culturale. Cento anni di illuminazione artificiale hanno quasi cancellato 40.000 anni di cultura astronomica. È un paragone parecchio grosso. Cento anni contro 40.000. Provate a immaginare tutte le nostre civiltà del passato senza le stelle. Noi probabilmente non saremo neppure qui. Un danno scientifico. Gravi ripercussioni sul progresso scientifico e spreco di denaro perché gli osservatori nazionali quindi pubblici sono strutture che non possono lavorare. Si spendono soldi per costruirli e poi non possono lavorare. L'osservatorio nazionale italiano si trova alle Canarie perché in Italia non c'è un punto del suolo del territorio nazionale con le caratteristiche sufficienti per l'astrofisica neppure nella zona dell'altopiano di Asiago dove ci sono dei grossissimi osservatori in cui una notte durante l'estate spengono tutte le luci dei sette comuni dell'altopiano per una serata dedicata all'astronomia e comunque l'osservatorio non può funzionare bene perché le luci di Malpensa di Linate e di Milano arrivano fino all'altopiano di Asiago quindi non 10 km ma centinaia di km quindi è un grandissimo spreco basta vedere la mappa delle zone inquinate dalle luci nel mondo e vediamo subito la differenza tra i paesi ricchi e i paesi poveri e dove si trovano le varie città più importanti possiamo vedere l'Europa più è rosso il colore più grave il danno la pianura padana è completamente rossa il nord Europa è rosso l'Inghilterra qui le zone di New York Boston Washington nero invece le zone desertiche americane una delle zone qui tutto il Nilo degli Egizi è completamente illuminato qua giù c'è un caso limite Hong Kong tutta la popolazione di Hong Kong ha perso completamente la capacità di abituarsi al buio noi sappiamo che se spegniamo le luci in circa 15-20 minuti i nostri occhi si abitano all'oscurità le pupille si dilattano e riusciamo a vedere meglio il buio i abitanti di Hong Kong l'hanno perso proviamo un altro caso limite la Corea del Sud e qui in questo buco non è mare è la Corea del Nord Corea del Nord di notte si spegne tutto parte Pyongyang che dovrebbe essere circa qui ma quella è un'altra storia qui in Giappone anche qui totalmente illuminato nel 2016 è stato calcolato che un terzo della popolazione mondiale non vede più la Via Lattea l'80% degli americani 60% degli europei qui c'è una famosissima atto di cronaca nel 1997 ci fu un grandissimo terremoto in California 30 km a nord di Los Angeles 6.7 Richter quindi una bella scossa causò circa 30 miliardi di dollari di danni 57 morti ma il centralino è circa le 4 del mattino il centralino venne bombardato e saturato dalle chiamate dei cittadini che hanno visto delle cose in cielo molto strane che non avevano mai visto erano le stelle cittadini di Los Angeles non avevano mai visto le stelle e in quelle noti di blackout telefonarono la polizia al 911 per capire cosa fossero quegli strani oggetti luminosi nel cielo vediamo adesso uno zoom sull'Europa e vediamo che anche qui possiamo vedere la situazione che non è proprio rose e fiori riusciamo a riconoscere qui Milano Torino Roma Napoli Parigi la Villumière Londra tutta la zona del Belgio dell'Olanda e ad esempio Madrid qui riusciamo a capire bene le zone più o meno densamente popolate ma vediamo una differenza che la pianura padana è totalmente illuminata mentre le pianure tedesche e francesi sono illuminate solo proprio nelle città le zone che si salvano un po' dell'Italia un po' la Toscana tutti gli appennini le zone alpine e la Sardegna e alcune zone del sud la situazione italiana studio del 2019 l'ultimo più recente l'inquinamento luminoso negli Stati Uniti e nella Roma the good the bad e the ugly titolo dal buono al brutto al cattivo l'Italia è tra i paesi europei in cui c'è più spreco nel 2017 l'Italia illuminazione pubblica 100 kWh come consumo pro capite il doppio della media europea in costante aumento portanto alla spesa complessiva annuale di circa 1,7 miliardi di euro 28 circa 29 euro a testa per l'illuminazione rispetto ai 17 euro europei oltre a questo i 25 milioni di tonnellate di nidale carbonica che viene rilasciata per creare questa illuminazione come energia elettrica quasi ogni regione ha una legge contro l'inquinamento luminoso ma è sempre ignorata dai tecnici progettisti e amministrazioni pubbliche che avrebbero il compito di monitorare in Friuli la legge è del 2007 misure urgenti in tema di contenimento prima dopo la legge è cambiato veramente pochissimo applicando la legge ci sono gli esempi si è calcolato che si può spendere il 50% in meno quindi da 1,7 si può passare a 800 milioni quindi è un bel risparmio a scala nazionale invece ci sono state dei comuni virtuosi che hanno applicato proprio alla lettera legge regionale risparmi del 60-80% cittadella rapallo bollate carugate non sono comuni piccoli però sono riusciti ad arrivare fino all'80% di risparmio dell'illuminazione pubblica però il vero problema è il privato e adesso lo vedremo qui ci sono le due mappe in confronto con la stessa scala di Italia la media è 60 quindi sul giallo quindi il Friuli è sopra la media queste zone qui queste province sono proprio fuori di ogni scala mentre la Germania è quasi al minimo in Germania ogni abitante spende 5,8 euro l'italiano 28,7 in Germania dal 2007 al 2016 si è speso del 53% in meno non c'è una crescita ma un calo le zone più virtuose d'Italia sono Napoli le zone qui dell'Alto Adige qui la parte della Liguria e una parte qui di Lombardia poi una parte di Sicilia il resto è tutto un po' troppo un po' anche un po' tanto esempi per restare sul territorio San Lorenzo 11 di agosto 2021 ero sul monte Valinis c'era una giornata una nottata molto molto ventosa ma molto limpida qui si vedono le nubi che stanno spostando in grandissima velocità c'è addirittura una famosa stella cadente una meteora qui e si possono vedere le due facce del problema in alto una via lattea completamente visibile ma mascherata sotto da un immenso inquinamento luminoso che non solo dal Friuli ma questa zona qua giù è il Veneto si riconoscono varie zone industriali vari comuni e si riesce a riconoscere proprio la geografia locale riconoscendo le luci sempre la stessa sera con una particolare lente che copre tutta la volta celeste ho fatto una fotografia che poi l'ho confrontata con un'altra zona del Friuli questa è il Monte Valinis Meduno con tutto l'inquinamento luminoso che arriva quasi a un quarto di cielo sia da sud con tutta la pianura ma anche da nord a questa qui la zona di Tolmezzo invece stessa foto fatta con le stesse impostazioni in Valpesarina quindi in Carnia dove ci troviamo uno dei cieli più bui di tutta Italia l'inquinamento luminoso c'è comunque non fortissimo come quello della pianura veneto-friulana ma si vede comunque qualche bagliore qui e si riesce a notare un cielo molto molto più scuro con molti più dettagli questo è il cielo che potremmo avere ogni sera fuori dalle nostre finestre se si venissero applicate leggi altro esempio spiaggia di grado guardando verso nord fari che puntano il cielo dal 2007 sono vietati in Friuli Venezia Giulia il campanile che è illuminato che lancia verso l'alto un fascio luminoso qua giù in fondo sono Trieste e le città della costa triestina mentre verso sud dove non ci sono luci vediamo completamente la parte centrale della Via Latte e qua giù c'è Capodistria per il porto che illumina a parecchi chilometri di distanza quindi due facce della stessa medaglia stesso opposto solo ruotato il cavalletto della macchina fotografica nord completamente coperto illuminato a sud come il cielo dovrebbe essere durante la notte qui abbiamo due documenti che si possono trovare tranquillamente su internet addirittura questo scritto da Margherita H professore emerito dell'università di Trieste famosissima astrofisica scritto al proprietario al sindaco di Fossalto del Portoguaro poiché il faro luminoso della discoteca Palmariva disturbava era visibile da chilometri di distanza e disturbava fuori ogni norma le le osservazioni professionali e no degli astronomi quindi Margherita già nel 2001 si era interessata del problema altra ordinanza comune di Patrica Frusinone l'ufficio tecnico impone a una certa persona di togliere un'opera abusiva una croce in cima a una montagna perché era fuori da ogni norma di illuminazione quindi anche le croce in montagna non sono anche nella legge regionale non sono proprio molto a norma ma qui venne addirittura fatta eliminare si può fare qualcosa certo basta rispettare le leggi sulla legge regionale è scritto chiaramente cosa bisogna fare cosa non bisogna fare senza ritornare al medioevo cioè spegnere proprio tutto totalmente la notte ad esempio cambiando solo le illuminazioni quelle a sfera sono totalmente vietate dal 2007 anche se si vedono tantissimo vi sfido a cercarle nelle piazze e nei parcheggi di moltissimi comuni della zona non si possono più usare perché metà del più di metà del loro fascio luminoso è verso l'alto ed è totalmente sprecato devono illuminare la strada non il cielo con lampade moderne e schermate si riesce a ridurre del 75% lo spreco di luce verso l'alto ma anche di energia quindi serve illuminare solo dove e quando serve veramente è inutile illuminare tutto 24 ore al giorno che tanto di notte anche dopo il lockdown del 2020 le persone che girano di notte sono veramente molto meno se avete notato anche nei vostri comuni si illumina solo dall'alto verso il basso è imposto dalla legge con pochissime pochissime deroghe sia negli edifici pubblici che privati utilizzare e anche nella pubblicità quindi faretti che dal basso puntano la facciata dell'edificio sono anche quelli che sono fuori norma dal 2007 utilizzare la giusta potenza bisogna illuminare non abbagliare le persone si ritorna al problema degli incidenti stradali un faro che ti punta in faccia ad esempio prima di una rotonda o l'illuminazione di un parcheggio che non ha nessun senso deve essere limitato per legge regionale le vetrine le insegne che non sono necessarie durante la notte ad esempio quelle necessarie le farmacie gli ospedali i benzinai le stazioni di sicurezza quindi polizia pompieri le forze dell'ordine possono rimanere aperte le altre alla chiusura del negozio o entro le 24 vi devono essere spente le luci dei monumenti vanno spente entro le 23 e anche i monumenti vanno illuminati dall'alto in basso non come il castello di ci sono di Valmarino o come molte chiese campanili o palazzi comunque 23 si spegne ridurre l'illuminazione stradale dopo una certa ora utilizzando i sensori di movimento se non ricordo male la legge regionale impone il 33 per cento di spegnimento dopo le 23 non ricordo male e addirittura nel nord Europa si usa il sensore di movimento passa la macchina si accende il lampione finito di passare la macchina si spegne semplicissimo e come dice la legge segnalare in comune tutte le luci che sono fuori norma nell'ottica più grande non solo nel locale nel 92 l'UNESCO dichiara il cielo notturno patrimonio dell'umanità e in quanto tale andrebbe preservato anche per essere visto dalle generazioni future come testimonia come testimone del passato nel 2001 nascono gli international dei dark sky park aree protette in cui il cielo notturno è quasi incontaminato e tutelato a scopo ambientale culturale turistico e scientifico negli ultimi anni ne stanno se ne stanno formando molti in Italia ce n'è uno in Val d'Aosta e c'è una zona dell'Alto Adige che sta alle carte già inviate per essere inserita all'interno di questi international dark sky park zone che attirano migliaia di turisti all'anno per attività culturali scientifiche osservare il cielo notturno come abbiamo fatto ad esempio avvivare un cielo che è dove è totalmente buio soprattutto per persone di città che non hanno mai visto le stelle o una luce diciamo dell'universo fuori dai lampioni è una cosa che è un'esperienza da fare in Germania ce ne sono vari anche in Austria in Croazia in Germania in moltissimi in America ad esempio vari parchi nazionali di notte si spegne appunto perché così anche la fauna non viene disturbata e come ultima cosa due citazioni di persone che che penso tutti conoscano non conosco nulla con certezza ma la vista delle stelle mi fa sognare Vincent van Gogh e quindi uscimo a rivedere le stelle Dante Lighieri trentaquantesimo inferno le stelle è la parola chiave di tutta la divina commedia e l'immagine è uno dei dark sky park in Croazia uno dei più vicini in Italia e si vede un cielo proprio quasi totalmente incontaminato e con questo concludo la la presentazione grazie Alessandro è stato davvero molto interessante i tuoi alunni saranno sicuramente contenti di averti come professore e complimenti anche per le foto proprio un commento personale per le foto perché sono proprio belle ecco adesso chiedo tanto a Rita se vuole intervenire oppure se qualcuno ha delle domande magari se qualcuno vuole intervenire non so se abbiamo qualche domanda da fare perché sarebbe veramente molto interessante la tua spiegazione magari poi vorrei un po' approfondire il discorso dell'astronomia rispetto all'agricoltura cioè le piantagioni mi piace molto mi piacerebbe molto questo perché io faccio agricoltura biodinamica nel mio piccolo ticello e quindi il discorso delle costellazioni che vi influiscono io francamente ho visto che funziona però segue un calendario di questo allora diciamo le costellazioni sapendo che avendo calcolato per migliaia di anni perché non è che una civiltà riprendesse da zero gli studi babilonesi poi modificati dagli egizi dai greci sono circa prima di arrivare ai romani quasi 3500 anni di osservazione del cielo quindi 3500 volte il sole che fa lo stesso giro le costellazioni anche cosa è cambiato sapevano che la stessa stella sorgeva la stessa ora nello stesso giorno logicamente nello stesso posto e quindi riuscivano a calcolare esattamente un calendario che sapevano che quando sorgeva quella stella si poteva piantare iniziava la bella stagione ad esempio ad esempio abbiamo visto una fotografia quella della zanna di Mammù c'erano le pleiadi le pleiadi si iniziano a vedere nella tarda estate quindi nella nostra zona iniziano diciamo a segnalare la brutta stagione quindi queste costellazioni questi gruppi di stelle stelle molto riconoscibili magari facciamo un incontro un po' più preciso per l'influenza ad esempio della luna con i calendari lunari la luna che cala la luna che cresce non piantare così non piantare colà c'è un dibattito tra circa 3000 anni di agricoltura astronomica e degli studi proprio fatti in maniera scientifica che danno due risultati totalmente opposti non ce lo racconterai un'altra volta così sì sì perché qui si potrebbe parlare ore l'altra cosa che è stata molto interessante è il discorso dell'equinamento luminoso io mi ricordo un po' di anni fa 15 anni fa di essere stata nel Limpestine e nella capitale proprio la loro capitale mi sembra ed è già l'ora e l'ora in alle 23 spegnevano tutto ed è già comunque anche nel primo nel primo della prima le ore della sera comunque era buio cioè per noi che siamo partiti qui che comunque in un territorio dove il cielo si vede benissimo potremmo fare il dark park quando vogliamo in Val Cimoniane piuttosto nelle nostre valli però la lì secondo noi che eravamo lì andate a fare uno studio una visita studio veramente era buio no ma no proprio nella città cioè la città avevano adottato questo sistema ed in cui praticamente l'illuminazione pubblica non parliamo della privata ma quella pubblica non c'era il discorso che si accendeva e si spegneva però praticamente rispetto ai nostri sarebbe stato un ampione alle 24 quindi pochissima illuminazione e a una certa ora alle 23 spegnevano tutto come dicevi tu avevano ci avevano raccontato questo fatto che la criminalità era diminuita cioè con il buio la criminalità c'era meno la criminalità con il buio piuttosto che non era rimasta impresso questa cosa piuttosto che con la luce mentre tutti pensiamo che la criminalità sia maggiore sia minore sia illuminata invece loro ci avevano confermato che da poco avevano entrato questo sistema era molto ridotta come avevi anche segnalato tu però non voglio parlare sempre io se c'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa approfittiamo ancora 5 minuti perché siamo un po' sforrato abbiamo qualche domanda ecco qui sì allora c'è Federica che adesso alla quale daremo la parola ecco Federica puoi attivarti l'audio eccomi sì scusate buonasera intanto grazie mille per questa conferenza mi è piaciuta veramente tantissimo e per quanto riguarda la parte del cielo notturno che appunto ormai non si vede più quasi nel senso io abito a Castelnuovo del Friuli ma sì mi rendo conto che si vedono più stelle rispetto a quando che ne so ero a Padova bellissimo però secondo me non sono ancora abbastanza nel senso la zona è molto spopolata quindi non ci sono non è densamente abitata questa parte però secondo me si potrebbe fare qualcosa di più anche in queste zone perché magari si potrebbe dare più valore a questi posti adottando certe misure ad esempio adesso volevo chiedere appunto la cosa dei lampioni che si muovono cioè che si accendono solo tramite sensore è veramente fattibile perché a me piacerebbe proporla nel mio comune perché mi rendo conto che io esco fuori dalla porta di casa e vedo Orione appunto il grande carro basta non vedo tutte le altre stelle che appunto di cui si parla sì sarebbe fattibile anche perché ci sono nel nord Europa sono una cosa normalissima i lampioni con il sensore di movimento qui comunque nella legge regionale sono citati chiedono proprio esplicitamente c'è scritto che dopo una certa ora se non ricordo proprio male le 23 ci deve essere una riduzione della luce della illuminazione stradale fino al 33% quindi un lampione ogni 3 dovrebbe rimanere acceso oppure utilizzando strumenti proprio di sensori di movimento proprio è citato dalla proprio dalla dalla legge e viene anche consigliato dai vari illuminotecnici che sono proprio i tecnici che creano l'illuminazione pubblica e privata perché anche tutti gli impianti privati devono essere devono avere il via libera da un tecnico o comunque dall'ufficio tecnico comunale ah ok quindi anche il privato in realtà sì sopra una certa dimensione cioè chiaro se a casa devo mettere una lucina nel cortile nessuno dice nulla ma se devo illuminare il parcheggio del mio negozio o o non so fare il viale illuminato comunque devo devo chiedere tanto vedere la legge e comunque farlo fare da qualcuno competente ok grazie grazie Federica Alessandro hai una domanda scritta in chat non so se puoi ok sì come possiamo concretamente agire concretamente per incentivare la revisione dell'illuminazione pubblica allora basta rivolgersi all'ufficio tecnico allora in realtà il pubblico si sta agendo a parte dell'illuminazione di certe piazze di certi parchi sta agendo anche negli ultimi anni sta sostituendo i vecchi lampioni con le fari quelli alogeni che mandavano tanta luce un po' ovunque o molte sfere luminose con i lampioni a led che hanno una luce un po' più controllata anche se più forte che come dicevo prima la luce va sia indirizzata nel posto giusto ma anche quantificata avere una strada di un comune illuminata a giorno come non so un gran premio non ha nessun senso perché un riflesso un abbaglio può sempre mettere in crisi chi guida anche perché una luce forte crea contrasti molto forti che i nostri occhi non riconoscono quindi ad esempio se appena un metro fuori dalla portata del lampione c'è il classico bambino che deve attraversare la strada o l'animale noi non lo vediamo perché proprio il nostro occhio non è fatto per un contrasto così netto i comuni sì comunque dal 2007 la legge 2007-2022 sono 15 anni che dovrebbero poi i tempi sono del pubblico sono un po' più con bandi sono un po' più lenti però il grosso problema ho partecipato anche a un convegno sul inquinamento luminoso a Talmassons a giugno nel giugno scorso con varie esperte sia regionali nostri veneti e altre persone di altre associazioni che il grosso problema è il privato Cappannoni c'è come diceva il tecnico del Veneto e la moda del Cappannon che chi ce l'ha più illuminato che non serve a nulla a cosa serve illuminare una fabbrica alle 3 di notte o un piazzale intero o un classico esempio del parchese del centro commerciale chiude le 20 riapre le 9 3 del mattino illuminato a giorno cosa serve ad aumentare la criminalità e a spendere migliaia e migliaia di euro di luce di corrente elettrica ogni notte visto che le notte sono 365 basta si fa un attimo a fare i calcoli nel privato che un attimo va sensibilizzato se ritorniamo all'immagine ad esempio quella dal Monte Valinis che si vede tutta la pianura l'80% delle luci sono luci private hai dato molti studi a cui pensare stasera io come dicevo abbiamo un po' sforato ringrazio tutti i partecipanti vi invito il prossimo giovedì che parleremo di qualcosa completamente diverso stasera abbiamo parlato di argomenti scientifici poi c'è anche l'Earis che vuole fare una domanda il prossimo giovedì parleremo di fiabe ci torneremo in attuna e parleremo tu hai parlato di cose molto tecniche scientifici invece andremo a sentire Paolo Paron che ci racconterà delle chiave legate alla natura lascio ancora l'Earis se vuole dire qualcosa se vuoi attivare il microfono sì volevo ringraziarti Alessandro dell'attuazione l'exio magistrale posso dire perché hai abbracciato dalle cose più lontane alle cose più recenti e certo non è facile rispondere all'ultima domanda che ti ha fatto perché dovrebbe creare veramente ma credo anche dalle zone delle relazioni sto parlando dei bambini questa sensibilità al risparmio non solo energetico ma anche al risparmio di inquinamento luminoso ti ringrazio moltissimo voglio solo fare questa affermazione grazie 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 a te Alessandro poi potrai leggerti in chat tutte le persone che ti hanno ringraziato grazie mille allora dopo leggo va bene grazie a tutti buonanotte ci vediamo giovedì ed andremo in un mondo di fatte fattato all'interno della natura saluti e grazie a tutti i partecipanti numerosissimi stasera grazie particolarmente Alessandro che ci ha tenuto questa lezione grazie a voi avermi chiamato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti